bravo vita allora un grande vitalini mi dicono che grande, è andata bene, siamo divertiti lo sminuisce considera che sabato a lei l'ho detto ti temiamo vitalini, vero? vero, confermo è andata bene buono, buono, buono il nostro capitano il nostro capitano chiede la prova al Tuelaghi passandomi via la Fonte Crestese che è casa mia ovviamente io cosa ho fatto? eh sì, me l'ha detto pan per focaccia, gli ho prodotto io a San Domenico scorretto in sei anni nei due laghi le prove che siamo riusciti ovviamente a finire le abbiamo vinte tutte il primo che ci ha battuto è Marco è vitalini in secondo è vitalini in secondo è riso stesso secondo